Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori miei Allora, ieri uscite un sondaggio perché vi chiedevo se volevate ogni giorno un video di Brawl Stars Io sto registrando prima di capire come vada questo sondaggio, quindi per questa settimana ragazzoli voi troverete alle 7 un video ogni giorno di Brawl Stars per tutta la settimana fino a domenica E invece i gamberetti li portiamo nella fascia dei video delle 12 di mezzogiorno e faremo due episodi a settimana, ovvero lunedì e poi forse giovedì o venerdì, non lo so Comunque, questo è un programma generale di questa settimana, però il prossimo settimana vediamo come organizzarci meglio Detto questo signori miei, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941, i link li trovate in descrizione sia su Facebook che su Instagram Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite Paypal, sempre trovate il link in descrizione Detto questo partiamo con il video Ok ragazzoli, allora, ragazzoni maulloniani, come vi piace essere chiamati, vi posso chiamare, fatemelo sapere nei commenti Noi siamo tredicesimi con 15 punti, facciamo un attimo il punto della situazione raga, perché sto riprendendo l'ora da giocare Al 18 ottobre 2022, ok, abbiamo la partita contro il Brasley, va bene, quindi siamo a metà classifica ancora a inizio stagione Abbiamo una mail, chi è che vuole parlare, chi è che si lamenta, raid, il prossimo incontro è fondamentale, va bene raid, giocherai amico mio Se sei in forma ti faccio giocare, se sei fuori forma non ti faccio vedere il campo manco da lontano, manco da vicino Allora, un po' non sa, è espulso, quindi raid, cade a fagiolo e lo mettiamo di qua In attacco Claudio e Morris, va bene Casade sulla destra, Esposito, no, facciamo giocare Nicholson Mitch dovrebbe essere, sì Mitch Lima, Salazar, Drollo, McKinley, ok E Yadama, Watanabe, Hamilton è incavolatissimo, quindi allora facciamo giocare Hamilton, signorini miei, prima che si è incavolato il brutto A posto di Salazar Amponsar lo mettiamo fuori per, dovrebbe essere, Naga è tornato, sì Allora, portiamoci Naga in attacco che è leggermente dolorante Però meglio un Naga addolorante che un Johnson rompiscato L'hai detto questo, signori miei, andiamo in campo E simuliamo la prima partita del giorno Prima partita del giorno Allora, calma, Papa Maullo Il tuo influsso Forza, forza i gamberetti Contro il Blasley 18 ottobre, loro vengono da una vittoria contro il Queen Park Rangers Che c'è fama noi? Vinciamo 2-0, bello raga Bel ritorno Gol di Nicholson e di Naga Grande Naga, abbiamo fatto bene a portarci in banchina Sono entrati Naga, Alvarez e Salazar A posto di Hamilton, Raid e Claudio Lima espulso Doppio giallo per Lima Va bene, va bene La nostra Lima C'era una volta una modella, raga Non so chi No, una volta una modella È ancora viva ed è ancora un gran pezzo di gnocca Lima Adriana Lima Se non la conoscete è andata da cercare su internet Perché confermo che è un gran bel pezzo di gnocca E va bene Detto questo, signori miei Allora Squalifica scontata per Amponsa Giocatore squalificato Lima Perfetto E chi che vuole parlare? Raid È contento Ottimo lavoro Bravo Raid Perché c'ha il morale che ti fa saliscendi Amico mio Hai qualche problema Di pillole C'ha il morale che ti fa su e giù In una maniera paurosa Andiamo alla prossima partita Che contro il Wigam Allora La cosa bellissima sarebbe arrivare Praticamente raga Ai playoff Noi siamo 14-18 punti Siamo lì Siamo lì Andiamo andando in rosa Allora Lima non può giocarla Quindi fuori Lima E torna a titolare Salazar Perfetto Con Hamilton Qua non tocchiamo niente Amponsa si fa un giro in panchina A posto di Lima però Ci portiamo proprio Amponsa Che è tornato bello carico E davanti Claudio e Morris Direi che vanno abbastanza bene Naga è il complemente distrutto Perché ancora non si è ripreso dall'infortunio Però ci ha segnato il gol partita Quindi va bene Gol vittoria Contro il Wigam Ospiti Papa Maul L'ha portato bene Prima lo portiamo pure adesso 22 ottobre Loro vengono una sconfitta Contro Sheffield Che ci fanno noi? Vinciamo 6 a 0 Raga Fermi tutti Stiamo a parare del Wigam Stiamo a parare del Wigam Raga Porca paletta ambriaca Ha segnato Raid 4 gol di Nicholson Cioè non è che si è portato il pallone Si è portato tutto lo stadio Si è portato a casa Non è che si è portato solo il pallone Tutto lo stadio si è portato E' un gol di Morris Sono entrati Watanabe E Amponsa Per Raid Ed Hamilton Ok E Hamilton Nella seconda volta E viene sostituito Vuole giocare Vuole giocare E poi viene sostituito 6 a 0 E pesantissimo Raga contro il Wigam Ma di che stiamo a parlare? Io quindi Allora raga Io con gli allenamenti Non ricordo niente Come siamo messi Quindi alleniamo questi Per ora Poi con calma Vedrò Kurumasa Alla 55 Alla 55 Mamma mia A 56 Scusatemi Kurumasa Alla 56 Poi vedrò Un attimino Di sistemare Di nuovo Gli allenamenti Perché si rompono Fare gli allenamenti organizzati Non conviene Perché tra le convocazioni nazionali Tra l'infortunio Ogni volta saltano Raid Vuole giocare più spesso Raid Ma se sei di solare Ma di che stai a parlare? Raid Ma questo c'ha problemi Il tuo posto di squadra Non è a rischio C'ha grossi problemi Raid comunque Signori miei Raid ha grossi problemi Cioè si è fatto due partite di fila E si lamenta Va bene Va bene Raid Terza partita della giornata Raga Allora se riusciamo a vincere pure questa Dico Fantastico Offerta per la nazionale No raga La nazionale non ci interessano La nazionale non ci interessano Giochiamo contro il raiding Siamo decimi Con 21 punti Ok Allora Andiamo a vedere un attimino La formazione La formazione si è riposata tutta Io l'unica cosa Leverei Mariani Facciamo giocare a un ponsa Così non si arrabbia Watanabe vuole giocare Va bene Facciamo giocare Watanabe Prima che si arrabbia E poi Hamilton Hamilton adesso non è più arrabbiato Cioè Ma porca miseria Che non te lo dice pure Naga ha recuperato all'infortunio Johnson è sempre più arrabbiato Esposito è un pochino arrabbiato Ma sinceramente Non mi sembra Lo posso portare in panchina Esposito Dai All'esposito al posto Di 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 Peter Pan Esposito al posto Di Peter Pan Vediamo se riusciamo a farle entrare E a farle giocare Uno sprazzo di partita Ultima partita della giornata Raga Se riusciamo a vincere pure questa E tantissima roba In casa contro il In casa contro il Redding Papà Maul L'ha portato bene Sabato 29 ottobre Loro vengono da un pareggio contro il Charlton Che ci fa Ma noi ragazzi siamo a casa Uno a uno Mamma che mi viene stretto Questo uno a uno Porca miseria Un 6 a 0 con il Wigam Sinceramente l'uno a uno Mi viene un po' costretto Però va bene Diciamo che l'abbiamo presa al 43esimo E recuperato al 43esimo Con Nicholson Se è fatto male Salazar Va bene Oh 7 punti in 3 partite Dico Non sono per niente male 7 punti in 3 partite Sono ottimi Allora Facciamo questi allenamenti Raga Facciamo questi allenamenti Arriviamo alla prossima partita Dopodiché Chiudiamo questo video di oggi Dai così Allora Che che va Naga vuole giocare pure lui Ah Naga Giocatore infortunato 6 settimane per Salazar Porca di una paletta Ambriaca Signori miei Naga vuole giocare più spesso Ok Naga La prossima giocare più titolare Va bene Naga Va bene Va bene Allora Andiamo avanti Se non sbaglio L'1 novembre dovrebbero arrivare gli osservatori Si è arrivato È arrivato il mondo Il mondo signori miei Ok Fermiamoci qui signori miei Non voglio guardare niente Non voglio guardare gli osservatori Questo lo faremo nel prossimo video Detto questo signori miei Io vi ringrazio di aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Grazie per la visione!